Luca, Davide, Davina, Anfredi, Francesco, Alfredo, Lorenzo, Sara, Filippo 19, leggere sicuramente fumetti in generale, ascoltare musica, suonare e smanettare col pc 22 anni, mi piace molto la musica, smanetto molto col computer Ne ho 20, smanettare un po' con i computer ma anche lo sport 21 anni, disegnare ma anche suonare, gestisco una pagina di disegni Trovare tante persone con la tua stessa passione Non mi aspettavo di trovare persone così preparate e che rendessero facili cose così complicate Non mi aspettavo di trovare un ambiente così informale, così simpatico, di divertirmi studiando La cosa più bella dell'academy è probabilmente conoscere le persone Volevo avere dell'esperienza che fosse più pratica di quella che ho avuto in università Avere contatto con qualcuno che ne sapesse di più di me Ho scelto di fare l'academy perché ho pensato che potesse essere un'ottima occasione di crescita Mi sono divertito molto quando abbiamo costruito dei container e abbiamo giocato a Doom Sparando ai container E dico gruppo, anche per me è un'esperienza molto interessante Sia per approcciarsi al mondo di DevOps che per sviluppare delle conoscenze in un ambito differente Da quello che è il solito ambito universitario È stata amicizia perché ho conosciuto tantissime persone con cui adesso ho un collegamento Che è rimasto molto ferro e ne sono felice Ho scelto di fare l'academy per potermi migliorare in un ambito che comunque secondo me è molto importante Dal punto di vista della ricerca scientifica E anche per ampliare quelle che sono le mie conoscenze sull'ICT che mi interesserebbero un domani Grazie a tutti